Siamo qua con il leader dell'Albania e anche in questo caso cercheremo di sapere le sue impressioni sulla settima edizione di Fabriano Acquarello, un commento su come ha trovato questa manifestazione e anche il proprio personale sentimento dopo questi giorni di pittura qua a Fabriano. Allora dire la verità è una grande festa che tutti gli artisti qua sono fantastici, questa è una cosa meravigliosa perché siamo tutti insieme anche in Albanese, anche in Serbi, Greci per esempio, gli altri da India, noi facciamo lo stesso in Albania. Io ho fatto un biennale che qui non so ma tutti piacciono di venire in Italia, io penso perché Italia è grande arte, ma a questo momento noi siamo qui per Acquarello. Acquarello è una cosa bellissima perché io penso che Italia e Albania hanno lo stesso paesaggio, anche noi abbiamo per esempio lo stesso ma l'architettura qua è diversa. Per questo motivo io penso che è una cosa molto interessante che è la luce, la luce è meravigliosa, è stupenda, tutti i villaggi italiani sono stupendi. Io sono molto felice, è la prima volta ma non sarà ultima.